musica ragazzi buongiorno oggi volevo parlarvi del telelever il telelever è appunto un sistema brevettato da BMW che separa le due funzioni di assetto ruota e di ammortizzazione e sospensione in modo semplice ed efficace aumentando notevolmente il comfort di marcia un braccio longitudinale fissato nella parte anteriore del telaio supporta la forcella e la ruota anteriore le funzioni di sospensione e ammortizzazione sono svolte dal mono ammortizzatore diversamente da una forcella telescopica convenzionale la forcella del sistema telelever reagisce con una pressione minore quando si frena o si guida su forze stradali sconnessi i forze degli steli non possono quindi bloccarsi reciprocamente ulteriori vantaggi di questo sistema il sistema dotato di diametri dello stelo più piccoli rispetto alle forcelle telescopiche tradizionali sono la riduzione di peso e un feedback estremamente immediato le poche masse sospese e la rapida reazione della sospensione assicurano un contatto eccellente su fonti stradali sconnessi il sistema telelever consente geometrie che minimizzano l'abbassamento durante le frenate improvvise in effetti quando si agisce sul freno anteriore la frenata viene ripartita una parte circa il 70% nella parte anteriore e il 30% nella parte posteriore evitando in questo modo il carico eccessivo sull'anteriore migliorando il feedback e il piacere di guida per il pilota un altro vantaggio del sistema telelever è che la regolazione elettronica del sistema antibloccaggio ABS è più facile da gestire nonostante le forze di frenate pulsanti non sono presenti i movimenti di beccheggio per concludere penso che il sistema telelever aumenti il confort di marcia e la sicurezza nelle situazioni ococritiche in special modo nelle frenate improvvise si avverte che la moto non viene caricata sul davanti ma ha un assetto più che ottimale ragazzi grazie per aver ascoltato e aver visto questo video alla prossima occasione grazie